La macchina del fango che mira a delegittimare in questo caso mette anche un bersaglio addosso. La procura ordinaria e la direzione distrettuale antimafia di Catanzaro non sottovalutano affatto quei manifesti affissi nei giorni scorsi a Cosenza, nei pressi del Tribunale, al centro città, davanti alle redazioni della TGR Rai, di Gazzetta del Sud e del Quotidiano del Sud. Nel mirino, Pintiti e Avvocati, soprattutto lui, Luca Pellicori, l'ex amico del cuore di Marco Perna, il rampollo dello storico padrino Bruzio e Ergastolano Franco Perna, ovvero il boss che ordinò l'omicidio del direttore del carcere Cosentino Sergio Cosmai. E poi c'è lui, Michele Gigliotti, l'avvocato di Pellicori, uno che fa parlare il suo cliente che di fatto affianca in aula la pubblica accusa. Pellicori fa paura, non è un semplice pesce piccolo in un mare di squali, è il custode dei segreti della gang di Serraspiga e dei fai traffici, di droga e di armi. Ha tradito il patto d'onore con la mala dopo aver scoperto di essere stato a sua volta tradito dal suo amico e capo bastone Marco Perna, che aveva intracciato una relazione con la sua ormai ex compagna. Ha tradito quando ormai aveva capito che prima o poi sarebbe stato fattoso anche lui. E così, da super testa del processo Apoclisse, ha raccontato fatti e misfatti, dalle centinaia di chili di droga trafficati nelle borgate cosentine, fino agli attriti con il clan degli zingari e il boss Maurizio Rango, che avevano messo in pericolo la vita dello stesso Perna. La magistratura indaga per minacce e nel fascicolo c'entra di tutto, dalle foto dei suoi figli postate proditoriamente da qualcuno sui social network alla pubblicazione su YouTube di stragi di alcune sue conversazioni. Perché Pellicori fa paura? Perché Pellicori può far mandare in galera per chissà quanti anni i suoi ex compagni d'affari? Pietro Comito per la Cineus 24